Voltiamo pagina, diciottesima edizione del Festival Nazionale del Doppiaggio dal 19 al 22 ottobre a Savona e a Cairo Monteo. Notte ce ne parla Bianca Scartezzini. Sugli schermi della Sala della Trasparenza della Regione Liguria in collegamento Angelo Maggi, doppiatore di Tom Hanks, Bruce Willis e Hugh Grant. Un'icona tra le voci nell'ombra la diciottesima edizione del Festival Nazionale di Doppiaggio. Per tanti anni diretto da Claudio G. Fava, in programma dal 19 al 22 ottobre 2017 con le nomination per gli Anelli d'Oro ai Migliori Doppiatori e Doppiaggi Italiani per la stagione 2016-2017. Avremo il goto del doppiaggio italiano a Savona e per una sera a Cairo Montenotte con voce a Cairo. La serata d'onore si svolgerà al Teatro Chiavrera il sabato 21 alle ore 21. Il meglio del doppiaggio italiano, Domitilla D'Amico che è la protagonista del film La La Land, addirittura per la serie Il Trono di Spade avremo tante voci rappresentative di quella serie cult. Una importante tradizione è quella del doppiaggio tra i fiori all'occhiello del cinema italiano. Sono stati consegnati i premi a Cesare Barbetti, il doppiatore di Robert Redford, a Amendola, il famoso Amendola e poi è stato con noi Giancarlo Gianni. La cultura sempre sostenuta dalla regione Liguria. La voce è importante e avere un momento che premia e rivaluta tutte quelle persone che stanno dietro le quinte, che magari non conosciamo come grandi star ma che sono importanti e grandi professionisti, credo che sia un tassello importante nella storia e nella vocazione di questa regione.